Riscursione spontanea ICI e riscursione coattiva entrate comunali, gestione diretta dal 1 luglio 2015. Oggetto visto in prima commissione consigliare, anche in questo caso è previsto il doppio voto, quindi anche il voto per l'immediata eseguibilità. Consiglieri, è aperto il consigliere Benini. Sì, come visto in commissione, come detto in commissione, a noi farebbe piacere che si potenziasse questo ufficio per la riscossione dell'ICI e si estendesse anche a tutte le altre tasse che il Comune applica, soprattutto quelle che ci costano tanti soldi, per riuscire a gestire un po' e fare un po' di razionalità e, come ho detto prima, a fare in modo che il nostro personale sia più produttivo per quello che ci costa. Quindi, niente, adesso noi abbiamo fatto anche una mozione, non so quando si discuterà, vediamo se oggi o più avanti, per fare in modo che questo Comune o faccia in proprio un ufficio per la riscossione dell'Atari oppure che si aggreghi a quelli che sono altri Comuni che hanno, diciamo, si sono posti un po' prima di noi. Non so, penso, questa è la mia opinione, il problema di risparmiare un po' di soldini in momenti in cui la cinghia è da stringere. Grazie.